Il più curiale buon lunedì e buon inizio settimana da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV. Si è spento Gigi Proietti. Caserta lo ricorda con affetto e ammirazione, forte il rapporto con Terra di Lavoro. È stato direttore artistico del Settembre al Borgo nel 2000 e ha ricevuto il premio Pulci nella Mente a Sant'Arpino nel 2015. Nel 1999 tenne un memorabile spettacolo nel cortile della Reggio di Caserta, prove per un festival che fece da prologo al Settembre al Borgo di quell'anno. Il foyer del Teatro Comunale di Caserta porta in pressa la sua frase, benvenuta a teatro dove tutto è finto ma niente è falso. Il mondo culturale italiano oggi perde un grande protagonista e proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. Una storia ricca la sua, di vero attore, di maestro di tecnica, di personaggio di grande ironia e carisma, amatissimo dal pubblico. Ed oggi entra in carica Gianfranco Nicoletti, rettore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vambitelli. Con grande emozione assumo il ruolo di rettore dell'università che mi ha visto studente di medicina, dice Nicoletti, e verso cui nutro un profondo senso di appartenenza che mi ha sempre spinto ad operare per la sua crescita e sviluppo. Il programma del nuovo rettore prevede un grande lavoro di squadra. Nicoletti sarà infatti affiancato da un prorettore vicario e da cinque prorettori funzionali per i settori strategici. Buon lavoro, rettore. Libri in redazione consiglia, fino a qui tutto bene. Sperling edizioni, il nuovo libro di Sabrina Paravicini, in cui la popolare attrice regista italiana racconta la sua battaglia contro il cancro al seno, diagnosticatole il 5 febbraio del 2019. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo su ondawebtv.it.